L'Abruzzo si risveglia dopo il voto oggi con curiosità e novità in provincia dell'Aquila, partendo dalle performance dei due consiglieri regionali, Simone Angelo Sante e Marianna Scoccia. Angelo Sante è costritto a cedere lo scranno più alto di Ovindoli a Angelo Ciminelli, davvero per una manciata di voti, 8 per la precisione, 6 qui sono state le schede dichiarate nulle e 2 quelle bianche e non si escludono ricorsi. L'altro consigliere regionale, Marianna Scoccia, viene riconfermata invece primo cittadino di prezza con quasi un plebiscito. La curiosità di queste elezioni è stata quella dei maestri di sci nelle aree interne, Francesco Lidonato, presidente del collegio abruzzese dei maestri di sci, confermato primo cittadino a Roccaraso, mentre Angelo Ciminelli, che ha voto la meglio su Angelo Sante, è presidente del comitato abruzzese Fisicab, la federazione degli sport invernali, nel comune più piccolo in provincia dell'Aquila, Carapelle e Calvisio, il nuovo sindaco è un ispettore di polizia, Rossella Galasso, in forza alla questura dell'Aquila, nel paese della famosissima Rocca del film Lady Hook a Calascio, dopo il commissariamento e in seguito alle dimissioni del sindaco Ludovico Marinacci e del Consiglio Comunale, il nuovo sindaco è un imprenditore molto conosciuto che gestisce il rifugio della Rocca, Paolo Baldi, che a livello di voti ha doppiato lo storico sindaco di Calascio che si era ripresentato, Antonio Matarelli. A Castelvecchio Calvisio conferma unanime per il sindaco Luigi Antonacci, a Campotosto, comune nel doppio cratere, dove la ricostruzione sarà l'imperativo per il nuovo sindaco, l'eletto è Ercole di Girolami. Attorno in parte vince la linea Carnicelli e la continuità, il nuovo sindaco è Gian Mario Fiori, di 41 anni, assessore della vecchia giunta del sindaco Carnicelli. La parola chiave, l'ha detto lei, è evoluzione, i cittadini hanno risposto, si sono presentati alle urne per il 65%, 10 punti in più della media nazionale, ci hanno dato un consenso incredibile, per questo li ringraziamo. Ci sentiamo la responsabilità di questo consenso e porteremo con orgoglio questa responsabilità sulle spalle. Punti primari per il comune di Tornimparte, nuovo piano regolatore, nei primi 100 giorni istituiremo uno studio di piano, un ufficio tecnico dedicato a un nuovo piano regolatore e dritti al nuovo polo scolastico unico. Menzione alla mia famiglia che mi supporta e mi sopporta, una parola però è doverosa per i due consiglieri che non sono rientrati, sono parte del gruppo, sono parte della squadra, hanno qualificato tutto quanto il gruppo, grazie anche a loro. A Fossa ha confermato il sindaco Fabrizio Boccabella, che ha avuto la meglio su Paola Pasta, a Capitignano, l'unico candidato era il vice sindaco usciente Franco Pucci, che diventa primo cittadino. Il voto di Ofena è stato seguito invece con molti interessi da Fratelli d'Italia, dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e dall'assessore regionale Guido Liris, secondo mandato qui per Antonio Silveri. In provincia dell'Aquila in totale si è votato in 29 comuni. A Secinaro, il nuovo sindaco a Noemi Silveri, il paese, non ha confermato l'uscente Celestino Bernabèi.